Virginia Don Domenico vi do di nuovo il buongiorno perché ho fatto una corsa ma ce l'ho fatta ho fatto in tempo mi sono anche cambiata e sono arrivata puntualissima qui al ristorante Saluzzo al 9 e qui con me c'è lo chef Fabio Cinelli buongiorno buongiorno chef se tu sapessi che corsa che ho fatto ma lasciamo stare allora cosa prepariamo di buono ci vorrebbe un dolcetto esatto un dolcetto e una classicissima crostata ricotta e visciole classica ma sempre sì assolutamente assolutamente è un must nella maniera più assoluta noi abbiamo soltanto variata la forma della frolla per personalizzarla un pochino niente di più e niente di meno quindi estremamente classica classica però intanto la frolla è fatta con delle uova buonissime le uova che provengono dalle galline felici sì sì esatto galline felici che ha la particolarità del sonoramento dove le galline vivono felici e non vengono soppresse adesso si muoiono di vecchiaia muoiono di vecchiaia muoiono di vecchiaia che bello e abbiamo preparato la fralla e adesso andiamo a rimpire esatto andiamo a comporla bene usiamo il sac a poche in cui abbiamo della ricotta che avremmo lavorato con delle zucchero bella ricotta fresca riempiamo con della marmellata possibilmente di qualità questa è una confettura che fa una piccola azienda vicino Viterba d'acqua pendente bene ecco qui anche come viene composta ovviamente è un po' il pittore che dipinta il suo quadro esatto che bello mettere l'onore della ciliegina sulla porta ah quindi non è una frase fatta la tua no assolutamente no vado tocca a me c'è una l'assistente una visciolata una ma mettiamole due due tre via una di qua una di là benissimo mi fermo perché non vorrei fare danni proprio con la visciolata dolce a presto non lo mangio nemmeno io va bene ciao ciao